Musica Ciao ragazzi sono sempre Stefano Benchimor, siamo sempre qua all'Ursu Snow Park di Madonna di Campiglio Il trick che vedremo oggi è il Backside Boreslide, ovvero scivolare su un box o un rail con la tavola perpendicolare alla struttura Allora le cose importanti da sapere per questo trick sono la linea di ingresso che non sarà più dritta, centrale alla mia struttura ma sarà un pochino spostata a seconda del mio stance, se destro o sinistro avanti Sono un pochino appoggiato sui talloni, hollo, mi giro a 90 gradi, così rimango a scivolare sul box sentendo l'appoggio sulle caviglie e non sui polpacci guardo la fine del box, rigiro la tavola e atterro Grazie per la visione